Vi siete mai trovati in una situazione come questa? Vorreste montare un mobiletto ma tutto è complicato e non sapete come fare? O vorreste poter riparare un cassetto? E come fare se due pannelli di un mobile si staccano senza smontare tutto? Wolfcraft ha la risposta. Con questa nuova rivoluzionaria guida pratica e semplice, guardate come fare in modo veloce e facile tutte le giunzioni nel legno. Con la guida Wolfcraft le mensole sono fissate in pochi minuti in modo solido e con precisione senza misurazioni e la giunzione è invisibile. Forare con la guida Avvitare Fatto Per fissare il pezzo che si è staccato bastano due minuti. Forare con la guida Avvitare Farto Potete riportare a nuovo un armadio o guardaroba che si è aperto senza smontarlo. Semplicemente forare con la guida Avvitare Fatto Il principio per queste perfette giunzioni è semplice e geniale. Un foro cieco in una sola tavola e viti autofilettanti per legno. Bastano la guida con i suoi accessori e un avvitatore o un trapano. La vite guidata nel foro cieco unisce e blocca i due pezzi di legno in modo assolutamente sicuro. Per un fissaggio ancora più solido e permanente potete aggiungere della colla per legno. Naturalmente potete fissare le tavole anche con il foro dall'esterno. Potete scegliere la soluzione più comoda. Potete realizzare tutti i tipi di giunzioni come quelle a T. Se volete nascondere i fori a vista, basta usare gli speciali tappi in legno forniti con la guida. Realizzare cornici è un altro esempio della versatilità della nuova guida Wolfcraft. La giunzione rimane sul retro. Sono necessari due fori per ogni lato, quindi serrare e forare. Una cornice perfetta e una tenuta assolutamente solida. Lo stesso sistema vale naturalmente per le classiche giunzioni a 45 gradi. Fare sempre due fori per ogni lato. Quindi serrare tutti i lati della cornice. Avvitare. La giunzione con due viti assicura una tenuta perfetta anche senza colla. I ripiani mobili, sorretti solo da supporti, possono staccarsi e cadere. Con la guida Wolfcraft possono essere fissati senza problemi in un attimo. Forare con la guida. Avvitare. Fatto. La riparazione di un mobile è un'altra possibilità esclusiva di questa guida. Ribaltare il terminale della guida e procedere. Bastano un paio di fori per sistemare il mobile. La guida per giunzioni Wolfcraft è la soluzione. Facile, solida, veloce. Indispensabile per ogni hobbista. Grazie. Tutto che. Corri. Grazie. Grazie.